no non è possibile ragazzi non è possibile piccolini ma come si fa come si fa io devo io devo una oggi perché è una cosa assurda una cosa assurda guardate io non ci posso credere ragazzi non ci posso credere guardate guardate non è possibile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti